La faremo chiudere, adesso chiamerò il questore, gli dirò qual è la situazione, a quel punto si chiudono i locali, li chiudi per una settimana, li chiudi per due settimane, voglio proprio vedere chi è più furbo, se loro o noi, se la situazione è così grave, adesso chiamo il questore che vanno lì, verificano quello che succede e si chiude, c'è la possibilità di farlo. Il riferimento è al locale turco di Via Conti, al centro delle polemiche per ciò che succede ogni notte in piazza Perugino, sarebbe proprio quello il luogo di appuntamento per le persone che gravitano nella zona, assumendo alcolici per tutta la notte, provocando risse, episodi di degrado e schiamazzi praticamente ogni giorno. Le denunce dei residenti portate a Telequattro sono state costanti in quest'ultimo periodo, ma la situazione va avanti da almeno un anno. L'ultimo episodio, degno di nota, l'altro ieri notte, con una lite tra due stranieri sedata dalla Polizia di Stato. Uno dei responsabili del fatto violento è stato anche ammanettato prima di essere portato in questura per la denuncia. Il sindaco di Trieste dice basta. Poi la sera bevono, questo è anche una brutta realtà, ormai qua bisogna ritornare un po' alle regole, bisogna ritornare alle regole. Io non ho mai girato con il coltello, dico la polizia che comincia a perquisire questi tipi, ripeto se bevono eccetera, si chiude, bisogna chiudere, l'ho fatto chiudere in viale, faremo chiudere anche questo.